Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo è il video, sarà il video tag testa o croce che sta spopolando su youtube e mi scuso per le condizioni dei miei capelli, lo so faccio schifo però dovendo fare appunto questo video essendo appena tornata dal corso preparato dove abbiamo fatto esercizi e quelle cose lì ho detto ne approfitto così mi concio come vengo vengo e poi mi butto così come sono in vasca allora iniziamo subito, sono sei domande e l'unica cosa che serve è una monetina io utilizzerò queste che sono le 500 lire d'argento così ho anche la testa e iniziamo subito, allora la prima domanda è se esce testa devo usare un rossetto rosso come blush, bellissimo se esce croce qual è il tuo blush preferito? allora lanciamo la monetina, ecco tenete presente che sono senza occhiali quindi non le prenderò mai ok testa quindi uso il rossetto rosso come blush ma era ovvio allora io utilizzerò questo di slick bel rosso oddio non mi vedo va bene bella lei oddio non ci credo non ci credo non mi vedo aspettate che prendo uno specchio ok ci sono oh mio dio sfumo bene però dai potrebbe essere un'idea ah no? speriamo non suoni nessuno benissimo allora passiamo alla domanda numero 2 se esce testa devo creare una palma sulla testa e quindi dovrò legare i capelli sono andata a vedermi perché non capivo cos'era sta palma e appunto mi devo creare questa palma sulla testa se esce croce qual è il tuo prodotto il tuo prodotto preferito per i capelli monetina e non poteva essere altrimenti testa molto bene testa crea una palma sulla testa giustamente un po' questo giufo beh peggio di cogerì è difficile è difficile oh mio dio proseguiamo domanda numero 3 testa usa il correttore come fosse un rossetto croce qual è il tuo rossetto preferito pronti? cacchia aspettate no 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 ragazzi adesso tolgo la telecamera non giro non taglio niente perché sennò cioè sembra che lo faccia apposta per rendermi ridicola questo è quello che è uscito no ma veramente bene dicevamo usa il correttore come fosse un rossetto eccolo qua allora allora utilizzerò questo qua della 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 l'orea che c'è qualcosa dirò io a mio figlio quando guarderei bene video su youtube che cosa vabbè ok aspettate che recupero la monetina fortuna che porti fortuna testa allora domanda numero 4 testa hai la possibilità di essere abbronzato oggi usa la tua terra come se fosse la cipria croce qual è la vostra terra preferita per la carnagione pronti pronti no 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 veramente ma è cioè una me la dai buona una ma è la possibilità di essere abbronzato oggi usa la cipria come fosse la cipria se si volete giusto allora io utilizzerò questa di elf che è un bel che è proprio di quelle belle scure che infatti utilizzo con difficoltà e quindi devo metterla come fosse una cipria molto bene e mi serve un pennello bene vado vado no 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 Amore, non venire Potresti non essere più tu Amore, non venire Aspetta, aspetta Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi che ti devo filmare Ok, chiudi Sei pronto Amore Non sei bruciata? Anche l'autobruzzante Non sono bellissima Sto facendo un videotag Che video Un videotag Bene Proseguiamo Allora, numero 5 Testa, riempite il sopracciglio con la matita per le labbra di vostra scelta Croce la tua matita per sopracciglia preferita Speriamo No, ma da Ma secondo voi pesa di più? Da una parte Che schifo Che glitter Ok Indirei paura Molto bene Ultima Domanda 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 Opzione numero 6 Testa Utilizza eyeliner come matita per labbra Croce Qual è il vostro eyeliner preferito? Croce 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 Molto bene Quindi Il mio eyeliner preferito È questo di Zoeva Il night violet Almeno una ragazze Ce l'ho fatta Che è questo qua In gel In crema Bene Dicevamo Il videotag è finito C'è un'ultima cosa da fare Che è una cosa meravigliosa Fatti una foto Fatti una foto Ed inseriscila Come immagine Miniatura Mo' la famo Con questo ragazze Il video è finito E' un videotag Cioè Qui sotto Qui sotto Nell'info box E tutti i link Dei videotesto Croce Che io ho visto Quindi Vi metterò Il link Al video Di Mia Quello di Nadia Tempest E di Ultraviolettante Che sono i tre Che mi sono guardata io Niente Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti